scusa no no ah 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 A l'abbia propria per te giudici ok ha già il progettamento. E poi non lo andò cambia l'occhierezza. Dove i colleghi, chatti la roba del fatto. Non vengono, vengono, vengono. Vengono, vengono, scrive il fatto. Ok 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 Voi? Aaaaaaaahhhh Cosa? Cosa? E si? Cosa? Cosa? to' parlo? Che che? Che che che? Che 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 hai? Che 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 ne sono ancora peпа? a 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